Erbe, natura da non mangiare, solenacee, apiacee e altre. Nelle scorse lezioni abbiamo visto le piante commestibili. Adesso invece ci concentriamo su quelle che assolutamente non bisogna mangiare. Il primo gruppo sono le solanacee, che è la famiglia delle patate e dei pomodori. Se osservate il fiore delle prime due piante che osserviamo, quindi solanum nigra, erba morella e la dulcamara, vedrete che i fiori assomigliano molto a quelli del pomodoro, se li conoscete. La loro caratteristica è avere i petali ripiegati all'indietro e avere la parte maschile del fiore, quella gialla, questa, che forma quasi un cilindretto che sporge verso l'avanti. Le solanacee contengono una sostanza tossica, che è la solanina, e l'ultima di queste tre, lo stramonio, contiene una sostanza ancora più velenosa, che può essere addirittura mortale e paralizza praticamente la respirazione, i muscoli respiratori. La più comune tra queste tre piante è la prima, solanum nigra, erba morella, che ha i fiori bianchi molto piccoli e le foglie che possono essere ovate e possono avere il margine, vedete, dentato sinuato, cioè questi denti sono un po' arrotondati, però possono anche non avere il margine dentato. La seconda, per diffusione, è solanum dulcamara, che quando è fiorita è facilissima da riconoscere, ha le foglie cuoreformi e un pochino allungate, e come vedete qua, nelle foglie più alte, ci sono anche queste due orecchiette alla base della foglia, ed è una pianta rampicante. E l'ultima, che ho visto soltanto in una località del parco, però è una pianta in espansione, appunto è Datura stramonium, lo stramonio, che ha dei fiori grandi e bianchi. Fiorisce di notte perché viene impollinata dalle falene, le foglie sono anche grandi e somigliano un po' a quelle della quercia rossa, vedete, sono incise e dentate. Parliamo adesso del gruppo delle apiacee. Le apiacee sono la famiglia del prezzemolo e della carota, quindi è di tantissime piante commestibili. Ma contiene anche questa famiglia la cicuta, quindi contiene delle piante che sono velenose, mortali. E quindi io non ho consigliato mai di raccogliere piante di questa famiglia, anche quelle commestibili, perché per un inesperto soprattutto è molto difficile distinguere le diverse specie, quindi si può incorrere in incidenti molto spiacevoli. Vi illustro la pianta, il Chierophyllum temulum, che è una pianta presente nel parco che è velenosa, una piacea, e che ha le foglie, vedete, piccole, molto incise, è alta circa fino a 80 centimetri. Il fiore è ombrello, come quello di tutte le apiacee, e i singoli fiori sono di colore bianco. E l'ambiente è quello del margine del bosco, comunque luoghi umidi anche sulla riva di corsi d'acqua. Vediamo adesso due piante che potrebbero essere confuse, per le foglie, con quelle dell'aglio orsino, che vedete illustrato nell'ultima delle tre foto. La prima la conoscete bene, è il mughetto, quando ovviamente, quando è fiorita è impossibile confonderla con altre piante, ma quando non ci sono i fiori, se osservate soltanto le foglie, vedete che sono simili a quelle dell'aglio orsino, però non odorano d'aglio, quindi l'odore dell'aglio orsino, insomma, è di grande aiuto. Dalla foto centrale, vediamo invece il colchico autunnale. Anche le sue foglie assomigliano molto a quelle dell'aglio orsino, oltretutto non fiorisce in primavera, ma fiorisce in autunno. In primavera, però, possiamo osservare, e quindi questo c'è d'aiuto, il suo frutto, che si è formato dai fiori dell'autunno precedente. Il colchico contiene un veleno potentissimo, mortale, che si chiama colchicina. Come dicevamo, fiorisce in autunno e il suo fiore può essere scambiato con quello dello zafferano. Non è assolutamente da mangiare. Quando è presente il fiore, non ci sono invece le foglie. Buona osservazione! Buona osservazione!